natale è diventato un turbine commerciale di cenoni pranzi cene regali luci alberi ma se siamo attenti possiamo trarre qualcosa di utile e profondo da questo periodo e per farlo voglio usare una bella metafora quella natalizia della luce e del brillare quindi quest'anno il mio augurio è questo fatti un regalo speciale concediti di brillare più del tuo albero dimentica per un attimo lo spreco e l'eccesso delle luci là fuori luci finte e ricordati che la luce più vera e più brillante sei tu devi essere tu la luce che splende e brilla più di tutte mi vesto di brillantini ma no parlo di luce interiore e il mio regalo di natale è dirvi come fare esattamente per brillare più dell'albero di natale con tre rituali speciali da fare al mattino davanti allo specchio 1 inizia la tua giornata sorridendoti allo specchio saluta te stesso e fatti i complimenti 2 fai pace con tutte le tue imperfezioni e le tue dinamiche complicate fai pace con le tue mancanze e le tue difficoltà 3 abbraccia la tua imperfezione perché ti piaci e ti vuoi bene esattamente così come sei abbraccia le tue sfumature e ama i tuoi contrasti bello vero quindi rallenta quella corsa frenetica verso la perfezione natalizia rilassati e lascia brillare la tua bellezza autentica così com'è il vero spirito natalizio non lo troviamo nei pacchetti regalo nel negli auguri di rito nell'essere apparentemente più buoni ma nella luce che risplende dentro di te perché ti piaci così come sei e poi questa si riflette sugli altri quindi auguri brillantissimi di un buon natale scintillante ma di luce e forza interiore